Ciao raga e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Allora, oggi un video in cui, sì, parlo anche di Milan, parlo un po' del campionato in generale Parlo di questa opportunità che ci è stata data dai nostri cugini ieri sera Perché ti ho trattato questo video così? Ti ho trattato appunto questo video con uno spiraglio per l'Europa o comunque qualcosa del genere Perché ora per me possiamo un attimo ricrederci dopo il passo falso E comunque rimane una figura di merda, quello del pareggio a Pescara di domenica Sappiamo tutti che appunto dopo la partita di domenica eravamo pieni di depressione, di tristezza Come normale che sia perché ci aspettavamo tre punti proprio tranquillamente Invece è andata così, con un Milan che ha giocato malissimo Ci portiamo a casa questo punto che non fa bene a nessun milanista Che ormai tutti pensavamo che l'Europa fosse andata via, più sfumata, sfumata E invece ieri ci ha sorpreso, i nostri cugini ci hanno sorpreso Perché l'Azio e l'Azio sono veramente molto difficili da prendere per il mio Nel nostro punto di vista, perché comunque sono quasi infermabili Fica il vincolo sempre e il bene o il male Ma l'Inter si è fermata clamorosamente Se l'Inter avesse portato a casa i tre punti che tutti pensavano potesse portare da casa Sarebbe veramente finito tutto quello che potevamo sperare di andare in Europa League Perché il sesto posto, che è il posto per me più brutto per andare in Europa League Perché ti sminchia tutta la preparazione Visto che devi fare i preliminari di Europa League Arriva proprio a più quattro da noi Quindi l'Inter prendeva tre punti di vantaggio ed era più che finita E invece è successa una cosa molto molto bella per noi Non prendete l'autonomia in questo video Non è assolutamente uno sfottoverso di voi Anzi possiamo considerarlo anche tale Ma visto che comunque in questi giorni ho ricevuto tante Più che in questi giorni domenica Domenica sera ho ricevuto tante sfottote Tante prese per il culo degli interisti Di certo io sarò un attimo più attento a parlare prima di giocare Naturalmente non sto parlando di tutti Anzi, diciamo la maggior parte degli interisti che seguono il mio canale Sono sportivi e dicono quel che devono dire Quando vince l'Inter io faccio i complimenti all'Inter Cioè quando vince il Milan però pretendo i complimenti del Milan E soprattutto ci sta lo sfottò Ma prima di sfottere o comunque prima di scherzare con il tuo rivale Perché ha fatto un brutto risultato come una pescara Pensate prima a giocare e a portare casi tre punti Siamo meno uno da voi Siamo meno uno da voi È già un buonissimo risultato Comunque pensando che voi avete una squadra tante volte più forte della nostra Diciamo che non è un nostro obiettivo arrivare sopra di voi Cioè nel senso se mi dicessero Preferisce arrivare sopra l'Inter ma settimo Preferisce arrivare in Europa League Dico l'Europa League Più che altro non per la Coppa che non mi entusiasma Ma per il mercato Perché arrivare in Europa League è un obbligo per fare un buon mercato Visto che se si farà questo benedetto closing tra pochi giorni Il Milan vorrebbe fare un bel mercato Ma bisogna almeno andare in una competizione europea Se no i giocatori di grande calibro Che vorrebbe il Milan Non verrebbero mai senza nessuna competizione europea semplicemente Arriverebbero solo dei giocatori che Non sono né cara né pesce Non sono a tanta sostanza Con la sostanza che serve al Milan Per diciamo recuperare tante posizioni Tutto quello che ci ha fatto provare in questi anni è veramente incredibile In un Milan che era abituato a vincere come tifosi Rivogliamo tutto quello che avevamo avuto degli anni a questa parte Cioè vincere, vincere e ancora vincere E niente questa sconfitta dell'Inter Pare il mio meritata Un Inter che ha fatto un buon primo tempo Ma che nel secondo tempo è scesa veramente malissimo in campo Una Sampdoria che ha resistito bene nel primo tempo Nel secondo tempo ha meritato di vincere Cioè ha giocato bene È arrivata a San Silvio per fare la partita Veramente Gian Paolo mi sta sorprendendo Una Samp che tecnicamente è quel che è Ma ha un gioco veramente incredibile Limpido, pulito Tanto possesso palla Tocchi veloci La squadra è molto veloce E questo si vede E sta comunque tenendo tanti tanti risultati È non in classifica E se non avesse fatto quei passi false inizio anno Probabilmente staremmo parlando di un'altra Sampdoria Magari di una Sampdoria che lotterebbe Per addirittura un'Europa League E quindi niente Una sconfitta che Non so Non è che mi ha dato carica Però mi ha fatto prendere veramente Un'importante sostituzione di sollievo Perché ora comincio Non comincio a carecci Però posso ancora sperare In qualche modo Anche se comunque per me è ancora molto molto dura Visto che le tre che abbiamo andato Sono comunque più forti Però c'è il derby Abbiamo non datissimi scontri diretti Abbiamo partite abbordabili Anche se dopo il pareggio col Pescara Non mi fido più di niente Speriamo che appunto questo pareggio di Pescara Ci serva da lezione A non prendere Diciamo così Alla leggera Queste partite apparentemente facili Dopo queste squadre Giocano alla morte Come ha fatto il Pescara E boom Ci segano E niente A parlare della Samp L'Inter che Dimostra per il mio Di avere tanti giocatori Ma non un organico necessario Per arrivare in Champions League Può dire addio alla Champions Ora deve stare addirittura attenta Per l'Europa League Perché non ci siamo solo noi dietro Staccati a un punto Ma c'è anche la Fiorentina Che io non me l'aspettavo Sto accumulando tante di quelle vittorie Che è arrivata a tre punti A quattro punti Da Milano e Inter Quindi stiamo attenti Anche alla Fiorentina Perché tutti gli scontri diretti C'è lì in casa Ho seguito circa Un po' in giro E niente Ora ci aspetteremo Un bellissimo finale di campionato Vedremo gli scontri diretti Cosa faremo Con Roma Inter E Atalanta Alla fine sono questi Gli scontri diretti Che ci aspetteranno E speriamo di far bene Diciamo questa sconfitta Dell'Inter Mi ha dato veramente Una boccata d'aria Perché ripeto Se avesse vinto La nostra esperienza Per l'Europa Liga almeno Sarebbe finita Così invece C'è da sperare Ancora un pochino Ecco Poi comunque Per me milanista È sempre Comunque Bastanza bello Non veder vincere l'Inter Come normale che sia Come gli interisti Per gli interisti È bello Non veder vincere il Milan Ma ha maggior ragione Se tutti e due Stanno lottando per un posto In Europa League E sono molto vicini in classifica E niente raga Spero che questo video Vi sia piaciuto È un video che comunque Volevo fare Anche perché Ho commentato Qualche video Di qualche interista Qualche video di persone Che parlavano di questa partita E ho voluto anche Esprimere la mia opinione Con voi Con un video Ci vediamo in un prossimo video Che probabilmente uscirà in settimana Oppure ci vediamo direttamente Al vlog post-partite Di Milan Palermo PS Sono allo stadio Quindi per chi Venisse allo stadio Se volete vedermi Iscrivetemi su Facebook O su Instagram Link in descrizione E poi vediamo come metterci d'accordo Ciao ragazzi